Buongiorno Davido, non so come voi la pensiate sul remote work, cosiddetto smart working con parole inventate, comunque lavorare a casa versus andare a lavorare in ufficio, però lo posso immaginare così a sensazione, probabilmente se chiedessi a 100 di voi, 98 mi risponderebbero che preferiscono lavorare da casa, dal proprio divano o dal proprio letto e gli altri due si sono sbagliati, no, era la risposta A. Quindi insomma l'opinione è abbastanza condivisa e diffusa, non sto neanche a commentare, io personalmente la penso ovviamente come la maggioranza, lavorare a casa è tanto bello, tanto simpatico, è tanto più rilassante, anche la produttività pare risentirne positivamente, c'è però credo un risvolto della medaglia, cioè le interazioni umane in qualche modo ne hanno subito qualche danno, perché sentirsi comunque continuamente, quotidianamente su Meet, su Zoom, insomma su via digitale, ecco può impoverire un pochino i rapporti, soprattutto con una nuova ondata di assunzioni magari arrivate, gente nuova in azienda che si conosce solo tramite Slack o tramite Meet e Zoom e quindi queste relazioni sono un pochino impoverite, magari ne risente anche un po' il lavoro in team. Io sono uno che ogni tanto apprezza trovare dei colleghi di persona, farsi un caffè, farsi due chiacchiere, ma insomma tutto questo pippone perché? Perché c'è una cosa frizzante che ho letto, che pare che in Zoom, Zoom non il tool, Zoom proprio la compagnia, ecco, si è uscito un leak di un all-ends meeting in cui proprio il CEO di Zoom mette di fronte gli impiegati a un paradosso, cioè che lavorare su Zoom non è così produttivo, non porta a generare delle buone idee, non porta aiuti all'innovazione e quindi va a chiedere un rientro negli uffici per tutti i dipendenti che stanno nel range di 50 miglia dagli uffici di Zoom. Questo meeting sarebbe del 3 agosto e quindi insomma considerate che Zoom naturalmente è esploso come revenue, tant'è vero che ha registrato 660 milioni di fatturato nel Q2 proprio grazie al remote working, però insomma secondo il CEO ci sono tanti nuovi dipendenti su Zoom e il fatto di sentirsi sempre su Zoom appunto, Zoom il tool, non consente di costruire quella fiducia che poi porta a generare più idee, progetti nuovi, cose interessanti. Quindi insomma pare che se ci sono dei meccanismi farraginosi in azienda per cui nuove idee non vengono fuori o la creatività non è stimolata, ecco non è colpa di processi di management, comunque non è colpa appunto dei manager, ma è colpa dei dipendenti che sentendosi su Zoom non riescono a costruire quel processo che poi porta alla innovazione e alle nuove idee, questo sempre secondo il CEO di Zoom. La butto lì e direi che a questo punto possiamo partire a sprombattuto con le news di oggi. Allora oggi è il giorno dell'entrata in vigore del DMA, il Digital Markets Act, prendo l'articolo che trovate su Agenda Digitale che mi sembra molto esaustivo, si intitola i nuovi obblighi UE cambieranno le piattaforme online, ecco come. Ne avevamo già parlato altre volte ma insomma questo regolamento, ripeto è entrato in vigore oggi, introduce una serie di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e identifica dei gatekeepers delle Very Large Online Platform, identificate proprio con la sigla VLOP e poi la sigla VLOSE che sarebbero i Very Large Online Search Engine. Insomma queste organizzazioni identificate con questi nomi hanno alcuni obbligi, alcuni incombenze anche con sanzioni notevoli. Infatti nell'articolo si citano degli adempimenti di queste grandi aziende, ve li vado a leggere, sono solo i titoli, poi dopo andate ad approfondire. Dovranno rendere le loro applicazioni di messaggistica interoperabili, quindi interoperabili anche con quelle rivali, dovranno rendere operativi i nuovi sistemi di ricorso, quindi ricorso da parte degli utenti, previsti a tutela degli utenti, dovranno favorire la diffusione di informazioni pluralistiche e non inquinate, quindi con valutazioni su eventuali rischi derivanti dal funzionamento e dall'uso che viene fatto dai loro servizi nell'Unione Europea e prevedere misure di mitigazione. Poi dovranno rendere accessibili e facilmente comprensibili i parametri utilizzati dai sistemi di raccomandazione algoritmici. Sapete l'algoritmo che vi raccomanda i post come quello di Twitter e Facebook, ce l'hanno tutti naturalmente, e quindi bisogna evitare quelle azioni di marketing che possono favorire delle azioni commerciali scorrette. Poi non potranno servirsi del trattamento arbitrario dei dati personali degli utenti e non dovranno inferire dati personali, quindi quelli provenienti dalla funzione di determinati servizi di piattaforme, con dati personali provenienti da altri servizi del gatekeeper o provenienti da servizi di terzi. Questi sono alcuni degli adempimenti, quindi vanno proprio a identificare un cambio totale di paradigma. Per queste norme alcune delle big tech si sono già adeguate, quindi c'è nell'articolo un elenco dei primi adeguamenti di queste big tech, ve lo vado a leggere. Google, TikTok e Meta hanno smesso di personalizzare pubblicità ai minori. Sempre Google, TikTok, Meta e anche Amazon hanno migliorato i sistemi per segnalare illeciti sulle piattaforme e anche alcuni possibili ricorsi contro le loro decisioni. I social hanno attivato sistemi per accedere ai loro contenuti senza il filtro dell'algoritmo. I social stanno potenziando i sistemi di moderazione per essere più tempestivi contro contenuti illeciti e stanno facendo valutazioni di impatto del rischio connesso alle loro piattaforme. Infine Google e Meta hanno potenziato l'accesso dei ricercatori ai loro dati per consentire un migliore monitoraggio degli effetti delle attività associate alle piattaforme. Quindi chi sono i gatekeepers? I gatekeepers sono operatori che sono intermediari, dominanti sul mercato digitale, sono in grado di influenzare il mercato stesso e sono gateway per i business di tante altre aziende che operano su internet. Per esempio ci sono Amazon, Apple, Alphabet, eccetera. E questi soggetti devono conformarsi ai requisiti del DMA entro il 6 marzo 2024. Altrimenti sono previste delle sanzioni durissime dal 10% del fatturato annuo mondiale totale fino al 20% per sanzioni ripetute. Poi ci sono 17 Vlop e 2 Vlose. Ricordo Vlop, Very Large Online Platform, Vlose, Very Large Online Search Engine. Quindi ci sono tra queste piattaforme che hanno almeno 45 milioni di utenti attivi al mese per esempio Aliexpress, Booking.com, Facebook, LinkedIn e poi tra i motori di ricerca ovviamente sono solo due, sono Google Search e Bing. Qui il mancato rispetto dei requisiti comporta fino al 6% di sanzioni. Vi leggo una dichiarazione di Thierry Breton che è il commissario europeo per il mercato interno con il Digital Markets Act insieme al Digital Services Act e al Data Act e presto con l'AI Act l'Europa sta riorganizzando completamente il suo spazio digitale sia per proteggere meglio i cittadini sia per migliorare l'innovazione per le start-up e le aziende europee. Ovviamente le big tech non sono tanto contenti ci sono in corso varie battaglie illegali, ricorderete la vicenda di Meta di qualche mese fa ma anche Google in ambito antitrust, poi Zalando e Amazon che non ci stanno a essere classificate come flop, insomma, la solita freschezza. L'articolo poi prosegue con alcuni dubbi sulla legittimità del DMA su articoli precisi che sono molto interessanti vi consiglio di andarli ad approfondire per esempio pare che alcune norme potrebbero portare a un cambiamento nelle commissioni applicate dagli App Store perché si parla di condizioni sui prezzi da considerare inique se portano a uno squilibrio dei diritti e degli obblighi. Ci sono anche alcuni esperti che hanno posto delle argomentazioni contro il DMA per il timore che ci sia uno scontro con le leggi nazionali quindi diventi un ostacolo all'applicazione delle leggi dei singoli stati in favore di una logica accentratrice. Insomma, sappiamo che l'Unione Europea negli ultimi anni ha spinto molto su questa logica di ferrea regolamentazione del mercato in aperto contrasto con le logiche più liberiste del mercato statunitense e dello stesso mercato europeo di qualche anno fa pensate al GDPR o appunto al futuro AI Act sull'intelligenza artificiale peraltro molto dibattuto. Se ne parlerà sicuramente ancora nei prossimi mesi certamente noi saremo qui ad aspettare. E parliamo un po' di codice che questo è anche un podcast che dovrebbe parlare di programmazione allora andiamo sulla notizia della release della versione 0.8 di BAN BAN sapete il runtime JavaScript alternativo a Node e Deno o Dino? Dino perché in effetti il logo è un dinosauro quindi si dovrebbe pronunciare Dino ma anche è un bundler, un transpiler, un package manager è stato lanciato l'anno scorso da Jared Sumner che punta molto se non tutto sulle prestazioni, sulla velocità tra l'altro nel post è già citata la data della pubblicazione della versione stable 1.0 sarà il 7 settembre, ci si può anche registrare al live stream di lancio. Quindi cosa si porta a questa versione 0.8 ormai semidefinitiva? Il supporto al debugger che è ottenuto attraverso l'inspector protocol di WebKit in pratica lanciando BAN con il flag meno meno inspect sarà lanciato anche un server WebSocket che comunicherà con i tool di debug attraverso l'inspector protocol peraltro si può andare una volta lanciato all'url debug.ban.sh che è un dominio che ospita una versione ridotta dei Safari Developer Tools quindi da qualunque browser si può lanciare questo tool da questo dominio e debuggare gli script di BAN, settare breakpoint eccetera poi c'è BAN UPDATE che praticamente lanciando questo nuovo comando si aggiorneranno tutte le dipendenze del progetto all'ultima versione parlo naturalmente del package JSON si può anche aggiornare una singola dipendenza per esempio con BAN UPDATE ZOD si aggiorna soltanto ZOD poi c'è il supporto a SvelteKit quindi lanciando BANX CREATE Svelte si fa lo scaffolding di un progetto SvelteKit e poi c'è il supporto al development server di Nuxt è stato anche implementato lo streaming delle response di fetch quindi una volta lanciato un comando fetch si può leggere la risposta chunk per chunk sfruttando proprio lo stream dei dati naturalmente ci sono altri miglioramenti e bugfix ma questi ve li lascio scoprire da soli se siete interessati questo era solo per aggiornarvi rapidamente e farvi vedere che lo sviluppo di BAN prosegue a gonfie vele e dritto verso la release stabile che sarà appunto fra pochi giorni ieri si è parlato molto anche di code LAMA che è un tool di AI generativa per scrivere codice e debaggare codice creato da Meta e costruito sopra il LLM Large Language Model LAMA 2 naturalmente avete capito che LAMA si chiama così perché LLM e quindi LAMA non l'avete capito? se l'avete capito ditemi naturalmente usa la stessa licenza non open source ovvero una licenza che permette di leggere e distribuire liberamente il codice purché non sia per ragioni commerciali come copilot può generare codice a partire da prompt o completare codice già scritto e in aggiunta Meta ha rilasciato una versione specializzata per Python chiamata LAMA Python quindi LAMA Pitone e un'altra versione chiamata LAMA Instruct penso si pronunci Instruct che può capire istruzioni in linguaggio naturale ovviamente il claim è che questo modello va meglio degli altri modelli disponibili pubblicamente saranno rilasciati tre dimensioni tra i diversi size di questo modello la più piccola può girare su una single GPU quindi per i progetti più piccolini per gli hardware più limitati ricordo che oltre a Copilot che è di GitHub esiste anche il modello di AWS che si chiama Code Whisperer ed è già disponibile mentre il modello di Google chiamato Alpha Code non è ancora stato rilasciato e peraltro parlando di AI chiudiamo con tre notizie dal taglio più economico la prima è che Hugging Face ha chiuso un round di finanziamenti da 235 milioni di dollari e in questa tranche c'è la partecipazione di un sacco di big del settore tra cui Google, Amazon, Nvidia, Intel, IBM eccetera e adesso Hugging Face è valutata 4,5 miliardi di dollari che è il doppio della valutazione di maggio 2022 se non conoscete Hugging Face anche se ne abbiamo parlato qui diverse volte è una piattaforma che offre diversi tool orientati al data science e al machine learning oltre a librerie per il processing di dataset e modelli trovate l'articolo su TechCrunch che spiega bene tutto quanto poi invece su Foronix si parla di AMD che ha acquisito una compagnia che opera in ambito AI si tratta di Mipsology che è una startup francese quindi AMD aumenta il proprio portfoglio di asset dedicati all'AI nell'articolo di Foronix si spiega cos'è Zebra che è il software prodotto e offerto da Mipsology e in ultimo su Deverge la celebrazione dei profitti incredibili di Nvidia del Q2 che sono praticamente esclusivamente legati all'AI si parla di 13,5 miliardi di revenue grazie alla domanda dei suoi chip dedicati all'AI che è esplosa senza precedenti ma il dato più clamoroso è che Nvidia ha realizzato 6,2 miliardi di puri profitti che sono l'843% in più anno su anno una cosa abbastanza incredibile e non si ferma qui anzi proietta una revenue di 16 miliardi per il prossimo quarter sempre grazie all'AI con il settore gaming che dovrebbe stando alle stime riprendersi un po' ma da padrone la farà sempre il settore AI con queste cifre che sono veramente fuori di testa bene, chiudiamo tutto qui grazie per avermi seguito oggi iniziano i mondiali di basket che si giocano a Manila nelle Filippine quindi Dai a Italia io vi auguro un buon weekend perché è venerdì buon rientro per tanti saranno gli ultimi giorni di vacanza quindi mi raccomando partenze intelligenti e noi ci vediamo la prossima settimana ciao